Dopo la PetroCeltic, anche Shell se ne va dalla Puglia. La controllata italiana del gruppo olandese, che nel 2009 aveva presentato due istanze per la ricerca di idrocarburi nel Golfo di Taranto, ha comunicato la rinuncia al Ministero dello Sviluppo Economico, come ad inizio febbraio aveva fatto l'irlandese PetroCeltic in merito al permesso di ricerca nell'Adriatico Meridionale, a largo delle isole Tremiti. Ad ottobre scorso la Shell aveva ottenuto il via libera dal governo Renzi per avviare le ricerche, scelta che scatenò la protesta della regione Puglia, che già nel 2013 aveva abbocciato le istanze della multinazionale. Ha spiegato la Shell di voler abbandonare il progetto italiano a causa del rischio paese. In pratica la politica italiana viene considerata poco affidabile per varare il piano di investimento. Il 17 aprile si voterà per il referendum abrogativo antitrivelle. Se si raggiungerà il quorum e vinceranno i sì, alle compagnie petrolifere verrà impedito di sfruttare i giacimenti senza limiti di tempo, così come prevede la normativa vigente. Fermare le trivelle, commenta il coordinamento Notriv, non serve solo a difendere il paese e l'ambiente, ma anche a pretendere dal governo di cambiare rotta sulla strategia energetica nazionale e di investire finalmente nell'economia delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, settore in cui paradossalmente dovremmo essere leader in Europa e non agli ultimi posti.